Il GIP del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella ha convalidato gli arresti dei cinque componenti della banda di rapinatori arrestati lunedì scorso poiché ritenuti responsabili del colpo commesso nella banca Sant'Angelo di Licata. Ancora ricercato invece il sesto uomo che avrebbe partecipato alla rapina. Dei 38.000 euro rubati, i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro ne hanno recuperati circa 17.000. I restanti 31 sarebbero in possesso dello stesso complice e resosi irreperibile. In Gella quindi restano i palmesi Carmelo Bordino e Biagio Monachello e i tre catanesi Andrea Gulisano, Salvatore Cavallaro e Sandro Sciattella d'Arrigo.